Chi si aspettava una corsa alle prenotazioni del vaccino dopo l'introduzione del Green Pass anche in Toscana è rimasto deluso. Il boom non c'è stato, ma comunque una ripresa degli appuntamenti, certamente sì. Negli ultimi giorni, complice la chiusura del portale per consentire la rimodulazione della campagna, alla luce della diminuzione delle dosi a disposizione per il mese di luglio, avevamo assistito ad una netta frenata degli accessi. La tendenza finalmente si è invertita con 50.000 prenotazioni in 5 giorni, ma gli appuntamenti per le prime dosi ancora disponibili sono molti, quasi 30.000. Tra già vaccinati e prenotati, i toscani che potranno avere il Green Pass sono circa 2 milioni e mezzo, su 3.330.000 aventi diritto gli under 12 sono esclusi, ovvero il 75% della popolazione. La regione si pone come obiettivo di arrivare all'80% di tutti i toscani coperti con la prima dose entro il 30 settembre. Significa dover arrivare in 69 giorni a somministrare la prima dose all'88% degli aventi diritto per raggiungere la soglia simbolica dei 2.930.000 cittadini. Ci sono insomma oltre 400.000 toscani da convincere, quasi il 12% della popolazione, un numero certamente importante. Per provare a centrare l'obiettivo, la regione punta su forniture costanti, 820.000 le dosi disponibili ad agosto, in maniera da scongiurare ogni possibile nuovo stop. E apertura costante del Last Minute, il servizio online per prenotare appuntamenti rimasti liberi sul giorno successivo, per evitare che chi si convince all'ultimo a vaccinarsi non abbia modo di ripensarci. Sarà accessibile per la prima volta anche agli under 16 e ci saranno inserite dosi in più fino a 4.000 al giorno. Questa scelta potrebbe ovviare ad uno dei problemi delle mancate prenotazioni, ovvero venire incontro a chi non fissa il vaccino perché la data combacia con le ferie estive. Grazie 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 Grazie